Il piano sanitario provinciale dell'ASP di Trapani Tassa sui rifiuti, evasione fiscale dell'80% a Mazzara Il mazzarese Leo De Santi trionfa al fastest of the year Buongiorno e ben ritrovati con il TG8 Informazione Apriamo subito il nostro TG con una notizia che avete ascoltato dai titoli Angelo Catalano, ex vice sindaco di Erice Ha patteggiato una condanna a un anno e nove mesi per corruzione e abuso d'ufficio in concorso Condannato con il rito del patteggiamento ad un anno e undici mesi L'ex assessore comunale di Erice, Angelo Catalano Accusato di corruzione e abuso d'ufficio La sentenza è stata emessa dal giudice Cersosimo Lo scorso mese di febbraio era finito agli arresti domiciliari Nell'ambito di una inchiesta dei carabinieri Che hanno acceso i riflettori sull'attività amministrativa del comune della Vetta Secondo l'accusa, l'ex assessore aggiudicava i lavori pubblici con assegnazione diretta Favorendo alcune imprese a discapito di altre Giustificando la prassi da lui adottata con il fatto che si trattava di situazioni di emergenza In particolare, Catalano, secondo la tesi accusatoria Abusando della sua funzione, esercitava pressioni sul dirigente del settore Lavori pubblici al fine di far aggiudicare i lavori di manutenzione della rete di illuminazione pubblica Ad un'impresa, dallo stesso sponsorizzata In spregio ai doveri di imparzialità e buona amministrazione E al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti L'avvocato, Francesco Moceri, difensore di Catalano Comunica che l'udienza è stata preceduta da una richiesta di revoca di patteggiamento Depositata nella cancelleria il giorno 20 settembre 2019 Con tale atto, l'indagato, dopo aver concluso il rapporto con il precedente difensore Che nel corso delle indagini preliminari Aveva precedentemente raggiunto l'accordo con il pubblico ministero nello scorso mese di luglio Ha chiesto la revoca del patteggiamento sulla scorta di due elementi fondamentali La granitica convinzione di non aver commesso alcun reato Con conseguente certezza di potersi difendere nell'ambito di un successivo ordinario processo penale Nonché la parziale valutazione della precedente intesa Che vedeva coinvolte solo quattro imputazioni Tra le sette contestate fin dall'inizio nella misura cautelare È un bizzarro episodio quello accaduto ad una fioraia di Castelvetrano Che dopo l'ennesimo furto è riuscita ad immortalare un ladro Mentre ruba una pianta posta davanti la porta del suo negozio Si tratterebbe del terzo episodio compiuto ai danni della fioraia Che attraverso la pubblicazione del filmato che state vedendo sul nostro schermo Invita la collettività ad indicarne sui social la generalità Ed è stato approvato ieri mattina il piano sanitario provinciale dell'ASP di Trapani L'Assemblea provinciale dei sindaci dei comuni Che costituiscono l'ambito territoriale dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani Si è riunita ieri mattina per partecipare alla seduta di approvazione Dell'atto aziendale e dei servizi ospedalieri dell'ASP Ovvero il piano sanitario provinciale relativo all'organizzazione e alla gestione dei nosocomi presenti sul territorio Ad esprimersi sul piano sanitario dopo averne preso visione nei giorni scorsi I cinque comuni di Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Marsala e Mazzara del Vallo Con diritto di voto A favore dell'atto si sono espressi i comuni di Marsala, Alcamo e Mazzara del Vallo Contrario invece il sindaco di Castelvetrano Mentre il primo cittadino di Trapani si è astenuto Nel corso dell'incontro il sindaco di Partanna Nicolò Catania ha rappresentato la necessità Condivisa già nel tempo con altri primi cittadini del Belice Di inserire in appendice all'atto aziendale anche la richiesta con ampie e documentate motivazioni Di una deroga normativa relativa all'operatività dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano Inoltre Catania ha chiesto di valutare all'interno dell'atto aziendale oggetto di approvazione Il mantenimento del reparto di rianimazione La proposta maturata con i colleghi sindaci di inserire all'atto questa richiesta Tiene conto dell'esigenza di garantire il buon funzionamento del nosocomio Essenziale per un bacino stimato di oltre 100.000 utenti E' in considerazione di un territorio, quello del Belice ma anche della confinante provincia di Agrigento E diventerà bellissimo il movimento del Presidente della Regione Nello Musumeci Continua a crescere con adesioni di personaggi rappresentativi e ben noti A Mazzara del Vallo si registrano ben sette nuove adesioni Si tratta di Gianluca Messina, già consigliere comunale ed ex coordinatore della lista civica libera intesa Rino Giacalone, Pietro Cannavò, Angela D'Angelo, Fabio Crocchiolo, Benedetta Pollo Ed ancora Sufienzi Tun, già consigliere aggiunto per due consigliature In rappresentanza della comunità magrebina residente a Mazzara Ben sette importanti adesioni molto gradite hanno dichiarato Giulia Ferro e Antonino Arena Rispettivamente coordinatrice provinciale e coordinatore comunale del movimento Adesioni che sono state fatte da persone che in città godono di notorietà e stima Consideriamo con vera soddisfazione queste adesioni Un'altra tappa di potenziamento e radicamento sul territorio della provincia di Trapani Ed ancora politica, ci spostiamo nella vicina Castellammare Con la nomina dell'assessore Leonardo D'Angelo a Castellammare del Golfo Forza Italia entra in giunta di governo Sulla nomina è intervenuto Tony Scilla, commissario azzurro della provincia di Trapani Augurando insieme all'intero movimento azzurro della provincia di Trapani Buono e proficolo lavoro al neoassessore comunale Castellammare del Golfo, si legge nella nota diramata dal commissario Scilla È una cittadina splendida, va amministrata quindi con passione, dedizione, amore e capacità Sono certo che Leonardo D'Angelo saprà fare tutto questo nell'esclusivo interesse del popolo di Castellammare Al fianco del sindaco Nicola Rizzo Ed il 27 settembre c'è il terzo sciopero studentesco per il clima E il WWF ha già confermato il suo sostegno alla manifestazione mazzarese Il cambiamento climatico è una realtà e sta già provocando impatti e fenomeni di frequenza e intensità Mai visti nella storia umana e con essi perdita di vite Sconvolgimento degli ecosistemi e della ricchezza di biodiversità che sostengono la nostra vita Se continueremo a bruciare combustibili fossili, a distruggere le foreste e a produrre cibo in modo insostenibile Distruggeremo il nostro futuro Fridays for Future è il grande movimento studentesco che negli ultimi mesi sta spingendo migliaia di ragazze e ragazzi A scioperare il venerdì e a riunirsi nelle piazze di tantissime città per rivolgersi ai governi Chiedendo a gran voce azioni concrete contro i cambiamenti climatici e reclamando il proprio diritto al futuro Il WWF, sempre sensibile alle tematiche ambientali, sostiene chi vuole salvare il mondo E il 27 settembre, giornata dedicata al terzo sciopero studentesco per il clima Anche a Mazzara non farà mancare il suo appoggio E quella di venerdì, la manifestazione per l'ambiente, anche la caratteristica, potrebbe essere la prima assenza di massa Giustificata dal Ministero della Pubblica Istruzione Infatti il Ministro Fioramonti ha, con la propria circolare, invitato i dirigenti scolastici ad accettare le giustificazioni di quegli studenti Che parteciperanno a questa manifestazione, fermo restando ovviamente alla volontà dei dirigenti stessi di volerle accogliere Ed anche la FLC CGL Sicilia aderisce alla grande mobilitazione del 27 settembre nell'ambito del Climate Action Week Sostenendo le iniziative in programma nelle varie città siciliane In quanto rappresentanti degli educatori e degli operatori della scuola, dichiarato il segretario regionale Rizza Sentiamo forte la responsabilità di proteggere il nostro ecosistema E preoccupanti i dati sull'evasione della tassa dei rifiuti, peggiorata nel corso degli anni a Mazzara del Vallo Si è infatti passati dal 50% nel 2015 all'80% nel 2019 di mancati introiti In pratica la tassa è stata corrisposta negli ultimi anni da poco più del 20% degli utenti Così il Comune di Mazzara dà la caccia agli evasori, affidandosi a una serie di controlli incrociati Ma allo stesso tempo agevola tutti gli utenti che non hanno ancora pagato e che hanno intenzione di farlo mediante la rateizzazione Per usufruire della dilazione di pagamento massimo per 18 mesi ci sarà tempo fino al 30 settembre Relativamente ai tributi locali non riscossi, ossia non ancora iscritti a ruolo e non ancora gravati da azioni giudiziarie Ed ancora notizie dal Comune di Mazzara del Vallo è stato pubblicato all'albo del Centro per l'Empiego Un avviso pubblico che riguarda la richiesta di assunzione da parte del Comune di Mazzara del Vallo Di un collaboratore tecnico categoria B con la mansione di autista di scuola bus Il reclutamento della mano d'opera verrà il 9 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 presso la locale sede del Centro per l'Empiego di Mazzara In base alla normativa vigente che regolamenta le chiamate nella pubblica amministrazione per le categorie A e B Il Centro per l'Empiego elaborerà una graduatoria e poi comunicherà al Comune il nominativo del primo Il Comune procederà quindi ad una prova tecnica pratica alla quale non sarà data però alcuna valutazione in termini di punteggio Ma avrà l'obiettivo di appurare la capacità legata alla mansione di autista di scuola bus Conclusa questa procedura il soggetto sarà assunto a tempo indeterminato Per ulteriori informazioni comunque è possibile rivolgersi al Centro per l'Empiego di Mazzara del Vallo Spostiamoci nella vicina a Campobello A Campobello di Mazzara contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo È possibile presentare le stanze entro il 30 settembre L'amministrazione comunale di Campobello di Mazzara guidata dal sindaco Castiglione Rende noto che la Regione ha attivato le procedure per l'erogazione di finanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita Dei libri di testo per famiglie con basso reddito In base alla circolare dell'assessorato regionale dell'istruzione numero 19 del 30 luglio scorso L'intervento è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado appartenenti a famiglie con Isee pari o inferiore a 10.632 euro L'istanza di contributo, formulata secondo lo schema reperibile sul sito istituzionale del Comune di Campobello all'indirizzo www.comune.campobellodimazzara.tp.it dovrà essere presentata esclusivamente presso la segreteria dell'istituzione scolastica frequentata dal richiedente entro il 30 settembre prossimo, appena di esclusione Le scuole cureranno infatti la ricezione delle domande e provvederanno a trasmetterle ai comuni di residenza Come vincere nel web? Questo è il tema del seminario che si è svolto ieri a Menfi Tonia Puleo, consulente web marketing della nota agenzia Prima Posizione ha parlato di opportunità di business Allora siamo in compagnia di Tonia Puleo Le aziende oggi hanno veramente recepito il potenziale del web e quanto il web sia in grado di aiutare a fare business? Allora se parliamo del territorio siciliano sicuramente diverse realtà stanno investendo online e hanno percepito che effettivamente c'è un mercato ricco Quello che noi facciamo è proprio questo Con Prima Posizione aiutiamo gli imprenditori che vogliono ottenere una maggiore visibilità online e che vogliono soprattutto avere un'idea concreta di quelle che sono le loro possibilità online quindi sicuramente c'è come sempre una parte delle imprese consapevole e una parte delle imprese che sta prendendo consapevolezza rispetto a quelle che sono le possibilità di imprese concrete di business che ci sono online Tu poco fa dicevi al nord forse la cosa è stata recepita un po' in anticipo qui al sud siamo un attimo in ritardo Sì questo come succede spesso magari ecco c'è una maggiore sensibilità nei confronti degli investimenti online nel nord Italia è una sensibilità che sta nascendo qui in Sicilia quindi sì un po' di differenza c'è però questo ci permette soprattutto a livello locale di poter raggiungere un mercato che è ancora vergine quindi da un punto di vista è negativo e da un altro punto di vista è molto positivo perché le imprese che prendono consapevolezza in questo momento e partono adesso possono staccare di molto la concorrenza prossimo appuntamento con prima posizione in Sicilia prossimo appuntamento il primo ottobre terrò un seminario a Bagheria in provincia di Palermo e poi vi invito ad un evento esclusivo che ci sarà l'11 ottobre al Saracen Hotel Isola delle Femmine tenuto da Andrea D'Agostini che è un grande esponente del marketing a livello nazionale ma anche internazionale è un evento gratuito quindi vi invitiamo a collegarvi al sito di prima posizione e iscrivervi Ieri sono giunti complimenti da parte del primo cittadino all'indirizzo di Leo De Santi il giovane musicista mazzarese che ha trionfato al contest Bastist of the Year 2019 che si è tenuto sabato scorso a Londra nel Business Design Center questa mattina lo ha ascoltato per noi di Letta Certa Leo, ti andrebbe di raccontarci brevemente la tua ultima esperienza formativo-artistica al contest Bastist of the Year in cui sei stato proclamato miglior bassista dell'anno a livello internazionale? Beh, in realtà ancora non l'ho realizzato pienamente nemmeno io perché è una cosa freschissima però è stata un'esperienza incredibile considera che sono stati due giorni dove mi sentivo a Hogwarts come il castello di Harry Potter c'è strumenti ovunque, bassisti incredibili che solitamente guardo io sui video di YouTube e me li trovavo a fianco e mi facevano i complimenti per quello che è successo quindi sì, è stata un'esperienza direi surreale, forse il termine corretto è surreale per cui è stato più o meno il corrispettivo di che può essere un'olimpiade per un atleta fondamentalmente è ancora una cosa che devo realizzare a pieno sono stati due giorni parecchio stancanti, devo dire la verità ma estremamente soddisfacenti ho con altre due persone, tra l'altro fantastiche, due bassisti incredibili che erano gli altri due ragazzi che erano in finale con me c'è Andrea Soxholm della Norvegia e Marine Corten della Francia per cui ho avuto pure modo di conoscere gente veramente da tutto il mondo perché oltre il mio diciamo di contest, quello di Bassist of the Year c'era pure il Guitarist of the Year l'Acoustic Guitarist of the Year ho conosciuto gente dal Giappone, dall'Australia, un po' ovunque è stato veramente bello, una grandissima esperienza musica musica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.